Ciao a tutti e bentornati a Dovera Gondor, il canale YouTube dedicato al Signore degli Annelli LCG. Oggi andiamo a vedere il pack, il terzo Adventure Pack del ciclo Nanosterro, l'Osservatore dell'Acqua, The Watcher in the Water. E allora, in realtà questo me lo ricordo che era un pack, diciamo, importante, ma rivedendolo e rifacendo questa serie devo dire che davvero siamo di fronte a un pack molto interessante che apre a tante possibilità e con alcune carte staple, in generale per alcuni mazzi, penso per esempio a Legacy of Durin per i Nani, ma alcune carte incredibili che ci accompagneranno poi per tutto il gioco di fatto, come Arwen Undomielo, il Consiglio di Erno, o lo stesso Aragorn che adesso tra poco vedremo. Quindi cominciamo subito. Allora, per la prima volta andiamo a vedere un eroe che abbiamo già visto in una sfera diversa. è il nostro caro Ramingo Aragorn, costo 12, 2325, quindi stesse statistiche. Questa sarà una cosa che si ripeterà nel tempo. Quando avremo eroi con lo stesso nome in sfere diverse, mi sembra che avranno sempre le stesse statistiche. Adesso forse la certezza assoluta dovrei ricontrollarla, ma comunque concettualmente avremo eroi che hanno sempre le stesse statistiche. Sentinella, Dune Dine Ranger, quindi gli manca un tratto in questo caso, questo è un po' un peccato se vogliamo. Poi ha un'unica azione, diciamo, azione di refresh, quindi di ristoro, di riordino. Riduci la tua minaccia al tuo valore iniziale. Limite una volta per partita. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che voi arrivate a 49 di minaccia, dopo la fase di refresh, e scendete, scendete al vostro 30, 27, 35, quello che era iniziale, no? Quindi vuol dire che verosimilmente, per tutta la partita, o per gran parte della partita, l'abilità di Aragor non si innescherà, perché si innescherà soltanto quando voi andrete a un livello di minaccia tale per cui avete paura di poter perdere per alzamento di minaccia. Ora, domanda che faccio chiaramente, quanto è comune perdere per alzamento di minaccia? Beh, dipende molto dalla quest. Spesso magari si perde per location lock, e di conseguenza si perde per aumento di minaccia. Spesso magari si perde perché muoiono gli eroi. Spesso si perde proprio perché si arriva a 50. Quindi esiste una certa probabilità, diciamo, difficile da definire, per cui le partite si perdono come raggiungendo la minaccia a 50. Ecco, Aragor vi impedisce questo, cioè quando arrivate a un valore che ritenete, diciamo, di paura, nel senso, oltre il quale rischiate di perdere con minaccia a 50, voi potete utilizzare l'abilità di Aragor. Ecco, notate bene che chiaramente non conviene proprio aspettare il 49, perché magari avete delle carte con Condanna, con Doomed, magari sottoquestate per sbaglio, magari c'è un effetto ombra che vi alza la minaccia, quindi, insomma, c'è una sorta di percentuale di rischio sul quando triggerare questa abilità. È chiaro che più in là la fate, e più ne avete beneficio. Ora, se così fosse, Aragorn sarebbe un eroe, Aragorn, diciamo, verde, anche chiamato Lor-Aragorn, per la sfera Lor, o anche Gran Passo, in realtà, perché è proprio l'immagine di Gran Passo, sarebbe un eroe buono, sicuramente, ma, come dire, non esageratamente incredibile. Ecco, in realtà, noi già abbiamo visto degli eroi che usano la minaccia come risorsa. Vi ricordate che abbiamo parlato di Boromir? che usa la minaccia per stapparsi, o anche di Frodo, che tramuta i danni in minaccia. Ecco, Aragorn sostanzialmente amplifica questo concetto, cioè, vi dice, usate tutta la minaccia che volete, tanto a un certo punto io vi riporto al valore di partenza. Quindi immaginatevi un mazzo con Boromir, Frodo e Aragorn, tra l'altro neanche così non tematico, anzi, in cui sostanzialmente usate tutta la minaccia che volete, per tutto l'action ha avvantaggi e la riduzione del danno, e poi a un certo punto tornate a zero. Quindi capite bene come già possiamo guardare ad Aragorn in maniera diversa, non come il paracadute, che è sicuramente utile, ma proprio come uso la minaccia come risorsa. Ecco, l'estremo modo di usare la minaccia come risorsa ci è dato da Aragorn nella sua versione verde. Non solo, non solo, aggiungiamo un elemento, io posso deliberatamente sotto quest'area quando faccio le mie partite. Cioè, diciamo che io ho dei nemici nell'area di allestimento, so che se mando i miei eroi in quest, magari perdo di uno la quest, perdo di due, vinco di uno, ma mi trovo degli eroi tappati per avere contro i nemici, beh, allora Aragorn in questo caso fa il caso vostro, perché voi potete deliberatamente sotto quest'area, la vostra minaccia sale magari di tre, di quattro, di cinque anche, non importa, ma avete gli eroi stappati per poter attaccare, per poter attaccare successivamente e magari sconfiggere il nemico. Per cui diciamo, Aragorn è un paracadute ottimo, è l'amplificatore dell'utilizzo della minaccia come risorsa e addirittura voi potete giocare deliberatamente facendo salire la minaccia, perché tanto poi ritornate al punto di partenza. È chiaro che, diciamo, le ultime due cose sono molto simili, si tratta sempre di avere la minaccia come risorsa, però il concetto è non... Aragorn vi permette di non avere quell'ansia, passatemi il termine, che si ha quando si va a quest'area e si dice, caspita, se però mi è c'è un nemico, sono scoperto, però se non questo mi sale la minaccia. Ecco, Aragorn in questo senso vi aiuta, perché permette ragionevolmente di sotto quest'area apposta per poter affrontare poi una fase di combattimento in maniera più robusta. È il caso, per esempio, e lo vedremo poi nelle prossime settimane, della partita che vi consiglio poi di guardare, che è la prima del ciclo di Reddini Númenor, Peril in Peragir, Pericolo a Peragir, dove utilizzerò Aragorn nella sua versione e vedrete alcune di queste possibilità. Ora, stiamo per spostarci? No, aggiungiamo un'altra cosa. Stiamo dedicando tanto tempo ad Aragorn, ma perché lo merita, in effetti. Un attachment interessante da giocare ad Aragorn è la Burning Brand, che tra l'altro fa di Aragorn proprio quel gran passo che soccorre gli Hobbit a Collevento, se ve lo ricordate, no? Quindi il gran passo ramingo, che col bastone fiammeggiante scaccia in Hatskull. Ecco, Aragorn comincia a diventare un difensore di tutto rispetto, perché oltre ad avere il 2 di difesa, che non è male, certo Denetor è meglio, ma comunque non è male, ha un pool di punti vita notevoli e ha Sentinella, e soprattutto con la Burning Brand va a cancellare gli effetti ombra. Questo vuol dire che se io ci do un qualche modo per bustare la sua difesa, che potrebbero essere, per esempio, i segnali d'Unedain, che abbiamo già visto nel ciclo precedente, o altre carte che vedremo in questo pack, allora Aragorn, non solo la sua abilità è passiva, perché voi per fare questa refresh action non dovete tapparlo, Aragorn. Potete usarlo come eroe, ma magari potete usarlo come grande difensore, proprio perché vi cancella gli effetti ombra, e tra l'altro è in una sfera in cui può anche curarsi, per cui, come dire, a questo stato del gioco, Aragorn diventa davvero uno dei vostri migliori difensori, in multiplayer, perché ha già la parola Sentinella, ma anche in single player, perché è in una sfera che vi permette di cancellare gli effetti ombra e curarlo. Ok, muoviamoci verso la prossima carta, che è Grave Cairn, se si dice così, evento costo 1, risposta, dopo che un personaggio lascia il gioco, aggiungi la sua forza di attacco alla forza di attacco di un altro personaggio fino alla fine del round. Quindi, evento viola, Allora, quando può essere utile? Beh, voi fate blocking con un alleato, magari a 1 o 2 di attacco, e giocate questa carta e date al vostro attaccante la forza di attacco di quell'alleato che è stato sconfitto. È un'ipotesi. Quando può essere utile? Beh, per esempio, con la solita combo Sneak Attack più Gandalf, o Sneak Attack più qualsiasi cosa, diciamo, in generale. Cioè, voi giocate magari Gandalf con lo Sneak Attack durante la fase di quest, Gandalf farà quest hyper 4 e magari vi abbassa la minaccia di 5, se ne esce durante la fase di impresa, voi giocate questo evento da più 4 magari all'attaccante per la fase di combattimento. Quindi, diciamo, una combo simpatica, un po' difficile da setappare perché questa carta più Sneak Attack più Gandalf sono tante carte e tante risorse, però in realtà non così impossibile. Diciamo, una carta simpatica, la userei proprio per fare queste combo perché altrimenti ha poco senso, se vogliamo, che un personaggio che ha alto attacco venga usato come blocker. Mi viene in mente il Vassal of the Willord, voi siete in difficoltà, usate il Vassal of the Willord, il Vassal of the Willord se ne esce dal gioco, con questa carta date più 3 a un attaccante, magari avete anche l'Eagle of the Misty Mountains e piazzate il Vassal sotto. Quindi, insomma, qualcosa si può costruire anche con il portato in volo, se vi ricordate quell'attachment che abbiamo usato più volte anche durante la nostra progression series della sfera rossa che vi fa riprendere in mano un alleato. Quindi, insomma, si può settappare qualche combo simpatica e carina, non è semplice ma può dare una certa soddisfazione. Diciamo che può essere rivista sicuramente quando usciranno degli eroi, penso allo Tyriel che manca ancora tantissimo, ma più in generale degli eroi che sfrutteranno l'entraesci dal mazzo, scusate, dal campo, i Silvani per esempio, o Principe Imra, il Rosso, insomma ci arriveremo. Spostiamoci quindi verso la spada che fu rotta. Beh, se è il pack di Aragorn, senz'altro, la spada che fu rotta è una carta che comincia ad avere un certo peso nel buildare Aragorn, che sia nella sua versione viola o nella sua versione verde. È un attachment viola, costo 3, quindi non molto economico, è unico, quindi può essere ce n'è solo una, è un artefatto, attaccano un eroe, l'eroe con questa giunta guadagna una risorsa viola, e fin qui, insomma, è una canzone che costa 3 volte la canzone, la Song of Kings, se l'eroe con questa giunta è Aragorn, ogni personaggio che controlli prende più 1 alla forza di volontà. Ok, secondo di silenzio per dire prende più 1 alla forza di volontà, quindi se voi avete 10 personaggi, questa carta vi dà più 10 alla forza di volontà, in generale, ovviamente poi dipende chi committata la quest e così via. Quindi, questa comincia ad essere una carta, insomma, sulla quale si può costruire un mazzo, cioè, ho una quest particolarmente difficile, o in cui mi è chiesto tantissimo la forza di volontà, la spada che è più rotta può essere la carta dalla quale cominciate a costruire il vostro mazzo. Chiaramente necessita dell'utilizzo di Aragorn, e di conseguenza, quale Aragorn? Beh, allora, diciamo che può anche essere l'Aragorn viola, però l'Aragorn verde vi permette indubbiamente di avere anche un Aragorn con una canzone, che è quella viola, no? Quindi so, questo poi dipende da che deck building fate, però diciamo, l'or Aragorn che abbiamo visto poco fa è ottimo bersaglio della spada che fu rotta, perché, siccome è un attachment che costa tanto, magari vi serve tanto tempo per metterlo in gioco, e il fatto che poi il vostro Aragorn è in grado di resettare la partita a livello di minaccia al punto iniziale può essere un aiuto, capite, no? Cioè, nel senso, se io ho tante cose costose, mi ci vorranno tanti turni, durante questi turni non questerò, o questerò meno, quindi mi ritroverò con la minaccia che sale, e quindi l'abbasserò al momento giusto con Aragorn, per cui, come dire, io vedo molto bene la spada che fu rotta con Aragorn verde, nulla vi vieta di giocare con Aragorn viola, anche perché il viola ha, diciamo, più in là, sicuramente, i tratti di swarm, quindi di avere magari tanti alleati, un bordo pieno di alleati, per cui la spada che fu rotta è molto funzionale anche a quello. Insomma, al di là di tutto questo ragionamento, questa è una carta che se giocate Aragorn di qualsiasi colore, vale la pena pensarci, perché, come dire, già voi pagate tre, e solo con tre eroi avete una risorsa per un willpower. Una volta che avete tre alleati, oltre tre eroi, capite bene che avete un willpower per mezza risorsa, e non è un bonus one shot, è un bonus permanente. Per cui, come dire, carta assolutamente interessante, forte, che vale la pena, sulla quale vale la pena addirittura costruirci mazzi, ho una quest molto particolare, penso anche a quella che abbiamo appena visto, del cancello corno rosso, che richiede tanto willpower, ovviamente, avere la spada che fu rotta aiuta enormemente in questo senso. Ok, spostiamoci verso il guardiano del Bruinen. Allora, Watcher of the Bruinen è un alleato da sfera tattica, costo due, 0-1-2-2, Noldor, guerriero, sentinella, il Watcher of the Bruinen non si esaurisce per difendere. E fin qui, uno dice, caspita, un alleato che mi costa due, ha cinque di statistica, e sentinella, è interessante. Però, purtroppo, ha un effetto Forced. L'effetto Forced è dopo che questo personaggio difende, o lo scarti dal gioco, o scarti una carta dalla tua mano. Quindi questa è una carta che, insomma, ad oggi, come dire, è forse paragonabile da un certo punto di vista al Winged Guardian, vi ricordate l'Aquila che ha difesa 4, con la differenza che forse è un po' più facile avere delle risorse per tenerle in gioco piuttosto che scartare carte dalla mano. Oltre al fatto che non ha delle statistiche clamorose, no? Nel senso che, sì, è sentinella, difende due, però, insomma, è facilmente, diciamo, un nemico, anche a bassa forza, che ottiene un più uno, più due all'attacco, rischia di farvelo fuori. Quindi, come dire, questa carta è un po' rimandata quando l'archetipo Noldor, di cui cominciamo a vedere qualcosa in questo ciclo, sarà più corposo, soprattutto con il concetto dell'utilizzare maggiormente la discard pile, la pila degli scarti. Certo, il Watcher of the Bruinen è un alleato che vi permette di fare sinergia con la Stand and Fight, perché è un modo con cui avete, oltre a Dewin e al Protetto di Lorien, di scartare carte. Quindi, quando può essere utile? Beh, può essere utile quando avete molti doppioni di carte uniche e ci sta. Cioè, nel senso che magari avete tre spade che furono rotte e una l'avete già giocata e le altre due sono carte morte in mano e a tutti gli effetti diciamo parate grazie a questa a questa abilità oppure quando volete splashare un alleato di una sfera magari giocate un mazzo azzurro-rosso o avete necessità di giocare un alleato verde per curare per esempio non avete Ewin che vi permette di scartare con la sua abilità potete utilizzare il nostro Watcher of the Bruinen perché vi permette di scartare carte. Quindi, come dire, carta ancora un po' acerba allo stato attuale del gioco ma su cui si può costruire qualcosina nell'ottica del ho un alleato che mi permette di scartare carte a mio piacimento quanto può essere utile dipende dal mazzo che ho però in generale soprattutto con lo Stand and Fight o anche la tomba nanica anche se la tomba nanica ha poco senso perché vi riprende una carta azzurra e quindi di conseguenza è una carta azzurra e pagate con risorse azzurra per riprendere una carta azzurra perché non avrebbe molto senso se non come ho bisogno di un alleato che pari due volte quindi ho necessità di scartare una carta sennò lo Stand and Fight che abbiamo visto più volte come analisi come gameplay si mischia bene con il Watcher of the Bruinen perché vi permette appunto di rianimare un alleato che avete scartato con la sua abilità ecco spostiamoci ora verso il Riven del Bow allora Riven del Bow è un attachment da sfera tattica costo 1 item weapon attaccala a un Noldor o Silvano un personaggio tra l'altro Noldor o Silvano o ad Aragorn limite 1 per personaggio il personaggio con questa aggiunta guadagna distanza se il personaggio con questa aggiunta ha la parola chiave distanza stampata prende più 1 durante un attacco con distanza allora questa è una carta sicuramente molto utile in multiplayer che permette di gestire meglio la fase di combattimento diciamo che in generale i personaggi Noldor Silvani e lo stesso Aragorn hanno una forza di attacco generalmente alta quindi come dire la possibilità di avere ranged a uno di questi personaggi è sicuramente utile non è neanche limitato quindi potete anche dargli questa più altre armi chiaramente ha poco senso in single player perché avere ranged in single player ha meno di carte particolari e uno in questo ciclo la vedremo ma altrimenti come si dice ha poco senso per cui è una carta principalmente da multiplayer ecco in multiplayer è sicuramente interessante perché avere un Aragorn che attacca 3 in giro per il tavolo o un Legolas che già è ranged e che quando fa un ranged attacco attacca 3 più 1 4 pagando una risorsa per un più 1 se poi è bustato dai segnali d'uno e anche dalle riven del blade che abbiamo visto in precedenza può avere il suo interesse quindi una bella carta da tenere come concetto per il multiplayer spostiamoci verso una delle regine delle carte di questo ciclo che dopo aver accompagnato Gran Burrone passando per il cancello Corno Rosso finalmente otteniamo come alleato ecco Arven un Domiel costo 2 2 0 1 2 risposta dopo che Arven un Domiel si esaurisce sceglie un personaggio quel personaggio guadagna sentinella e più 1 fino alla fine del round ma allora anzitutto abbiamo un alleato che costa 2 questa 2 e ha 2 vite e già su questo siamo di fronte a un top di gamma perché comunque capite bene che a livello di costo e diciamo efficacia è eccezionale vi questa per 2 vi para anche lo sguardo del Negromante diciamo che in generale il fatto di avere degli alleati che questano per 2 o che in generale che questano con 2 punti vita è qualcosa di molto utile perché vi permette di far fronte eventuali stregonerie eventuali perfidie che potrebbero spazzarvi via il board per cui Arwen questa e questa molto bene in più ha una risposta che dice dopo che Arwen si esaurisce sceglie un personaggio quel personaggio prende sentinella e più 1 fino alla fine del round beh tra l'altro è Noldor e Nobile beh allora Arwen diciamo che si esaurisce per quest'area e attiva la sua abilità ma diciamo che si esaurisce per qualsiasi o altro motivo e comunque attiva la sua abilità per cui è una carta come si dice fortissima c'è poco da dire Arwen è un alleato che vi ritroverete spesso a usare quando utilizzerete la sfera blu la sfera azzurra perché effettivamente è forte cioè c'è poco da dire pensate ad Aragorn anche in un multiplayer con Denethor ora Denethor ha già un suo difesa 3 va a difesa 4 diventa sentinella ma anche con lo stesso Aragorn è già sentinella ma ottiene più 1 magari ha su un segnale d'unedan magari ha la la burning brand no? quindi come dire è una carta che diventa una carta staple di questa sfera proprio perché come si dice oltre ad avere un costo effetto cioè pago 2 questa 2 ha 2 punti vita quindi estremamente notevole da questo punto di vista ha anche un'abilità che spesso può anche salvarvi un personaggio sia in single player che in multiplayer perché dare quel più 1 di difesa spesso può fare la differenza tra l'avere un personaggio che resiste agli attacchi o avere un personaggio che soccomba agli attacchi tra l'altro è quel personaggio per cui in realtà potete darlo anche a un alleato lo stesso Watcher of the Bruinen potrebbe essere un bersaglio di Arwen quindi insomma c'è poco da dire se non il fatto che questa è un'aggiunta notevolissima ed è uno dei motivi per cui questo pack insieme ad Aragorn diventa davvero un pack fondamentale pietra miliare diciamo di tutti i pack a seguire perché Arwen Arwen scusate diventa ed è un alleato davvero davvero notevole e insomma quasi un auto includo diciamo che a meno che non vogliate giocare a tema che ci sta Arwen quando giocate l'azzurro è una carta che cioè non ha senso non mettere in linea generale almeno in uno per poi si può dire no faccio un mazzo Nani cosa c'entra Arwen ci sta però da un punto di vista puramente di gioco è una carta che vale sempre la pena inserire ma la sfera azzurra non solo guadagna Arwen ma guadagna anche Errond scusate Errond il consiglio di Errond che è un evento a costo zero azione se controlli un unico personaggio Noldor quindi un eroe Noldor unico o un personaggio Noldor la stessa per esempio Arwen dai a un altro personaggio più uno willpower fino alla fine della fase ok e abbassa la tua minaccia di tre cosa? cioè abbiamo una carta che costa zero che vi fa abbassare la minaccia di tre il più uno quasi è è un effetto quasi secondario anche se zero per un effetto più uno boosting come azione che puoi giocare anche dopo la rea di allestimento è notevole ma in più vi abbassa la minaccia di tre ecco questa diventa una carta non solo staple dei mazzi Noldor e tutto ma diventa una carta sulla quale come la spada che fu rotta si può si può costruire i mazzi cioè si può dire siccome ho un scenario che mi costringe ad avere sempre minaccia alta cosa posso mettere per gestire la minaccia? il consiglio di Errond quindi che personaggio unico Noldor metto? no? cioè stiamo stiamo ragionando al contrario praticamente cioè andiamo a scegliere questa carta come base di partenza per un'esigenza e poi i personaggi Noldor che vanno di conseguenza tra l'altro il consiglio di Errond funziona anche con Arwen per cui spesso mi è capitato magari in mazzi che pescano molto di avere tre per e tre per perché nel momento in cui vado a giocare Arwen posso anche giocarmi il consiglio di Errond quindi insomma carta fortissima la sfera spirito animo esce rafforzatissima da questo pack sia perché migliora le sue capacità di quest sia perché migliora le sue capacità di gestione della minaccia quindi queste sono davvero due carte staple proprio da qui in poi durante per tutto il gioco notate bene questa carta abbassa la minaccia fino alla fine della fase quindi vi conviene giocare generalmente in fase di quest a meno di esigenze o quest specifiche penso per esempio alle paludi morte che abbiamo visto dove ci bisogna fare il test quello di ricercare Gollum che si fa con il willpower che però anche lì tra l'altro è fase di quest quindi comunque conviene giocarla in quel momento lì ma esisteranno durante il gioco dai momenti in cui magari vi serve del willpower fuori dalla fase di quest ma in linea generale vi conviene giocarla dopo l'allestimento prima della risoluzione dell'impresa ecco tanto sono forti queste due carte che abbiamo vinto tanto ci spostiamo verso una carta shortcut evento costo 1 della sfera verde risposta dopo che una location entra in gioco esaurisce un personaggio hobbit per mischiare quella location nel mazzo incontri quindi rivela una carta dal mazzo incontri e aggiungi l'area di allestimento diciamo tanto siamo abbagliati da queste carte azzurre tanto questa carta verde ci risulta un po' insipida ed effettivamente è un po' insipida nel senso che dopo che una location entra in gioco quindi può essere rivelata può entrare in gioco per altri effetti esaurisce un personaggio hobbit per mischiare quella location nel mazzo incontri ok quindi rivela una carta dal mazzo incontri e aggiungi l'area di allestimento ora magari io ributto dentro una location ottengo un nemico fortissimo magari ributto dentro una location ottengo una location un peggiore quindi quando è utile questa carta beh è utile se ho un fastidio su un eroe o un personaggio goblin goblin scusate hobbit quindi io ho sempre un personaggio libero da stappare poi o da mandare in quest e stappare poi usare per shortcut altrimenti come dire o voi avete la certezza che in quella quest se rivelate quel luogo avete perso e di conseguenza qualsiasi altra carta va bene oppure insomma un po' deboluce ecco questo questo evento tra l'altro costa pure uno costasse zero cioè insomma voi dovete tappare un personaggio hobbit pagare uno e una carta per togliervi un possibile luogo ma tra l'altro possibilmente togliervi perché quante volte vi è capitato di ributtare una carta e poi mischiate ed esce proprio quella carta lì per cui in realtà come dire davvero è un po' insipida questa carta può essere utile in certe quest dove hai quel luogo che non so per esempio avete un mazzo swarm di alleati 10 personaggi in gioco e il luogo entra a 10 di minaccia allora è chiaro che questa può essere utile perché qualsiasi altra cosa entri è come si dice è meglio però insomma un po' difficile ecco da costruirci intorno fortunatamente la sfera verde si riprende con la legacy of turin è un attachment a costo 1 condizione attaccala a un eroe nano risposta dopo che giochi un personaggio nano dalla tua mano esaurisci la legacy of turin per pescare una carta beh allora diciamo che anche qui l'archetipo nano se vogliamo dire un termine che fa ridere la tocca piano cioè come prima avevamo visto tutto in un pack dedicato a eladan il richiamo di moria che è una carta fondamentale per i nani anche l'eredità di turin la legacy of turin è una carta fondamentale per i nani perché vi dà il motore di pesca cioè pagate uno ogni volta che giocate un nano dalla vostra mano tappate e pescate una carta immaginatevi con il nostro amico Erebor record keeper voi pagate uno mettete giù un nano che magari è boostato da Dane e pescate una carta quindi linea generale anche questa dovete solo scegliere se metterla in trepero o in meno copie perché è una carta unica quindi spetta un po' voi come dire la scelta su questa cosa però c'è poco da dire tra l'altro il verde è una carta con bifur quindi insomma in cui i nani sono particolarmente forti e particolarmente presenti per cui auto include praticamente in ogni mazzo nano ecco non vedo motivi per cui questa carta i mazzi che si basano sul tratto nano non debba essere incluso l'unica cosa è potete dire ma avere carte uniche mentre per non mi fa impazzire vado a metterne solo una ma altrimenti insomma diventa difficile non includerla tra l'altro siete in una sfera quella verde del protetto di Lorien il protettore di Lorien per cui ne avete più copie e la scartate ecco come dire non c'è problema ad averne tre peri in questa sfera altra carta staple è fondamentale ci abbiamo dedicato poco tempo perché c'è poco da dire in realtà cioè nel senso è ciò che vi permette al mazzo Nani di decollare perché pescate carte ogni turno ogni volta che non ogni volta una volta turno quando mettete in gioco un nano dalla vostra mano spostiamoci ora verso l'ultima carta di questo pack altra carta staple per i mazzi secrecy neutrale attachment neutrale costo 4 resourceful secrecy 3 attacca da un eroe che controlli l'eroe con questa giunta colleziona una risorsa addizionale durante la fase di risorse ogni round beh allora questa è una carta che quando si gioca secrecy si mette sempre in 3x e si mulliga per questa carta perché il concetto del secrecy è o gioco eroi molto scarsi che hanno molto valori di statistiche molto basse e quindi devo cercare di fare il mio board subito accelerando e quindi un acceleratore di risorse come resourceful vi serve oppure gioco due eroi magari molto forti ma la cui somma è sotto il 20 perché è uguale o minore di 20 per il secrecy quindi in entrambi i casi il resourceful vi serve perché se lo pagate scontato altrimenti dimenticate voglio una carta che pagarla 4 per avere una risorsa turno in più non ha senso cioè se una partita dura 10 turni si magari se la giocate al turno 2 comincia a fruttarvi al turno 6 al turno 7 ma insomma non ha senso giocata a pieno a pieno costo giocata in secrecy invece vi permette di diciamo far fronte a uno svantaggio che è quello di partire con un board più scarso sia perché avete degli eroi a bassa minaccia sia perché avete meno eroi più forti come dandovi una risorsa per cui questa è una carta che quando è un altro pezzettino che cominciamo a mettere lì sul concetto di secrecy quindi oltre al timely hate oltre al dure anche costa meno oltre a varie carte che abbiamo visto e stiamo vedendo secrecy resourceful diventa un 3 per necessario obbligatorio quando si va a giocare in secrecy sia perché avete magari come detto tre eroi deboli a bassa minaccia o due eroi o anche un eroe ma un eroe insomma in questo stato del gioco è molto difficile o anche due eroi molto forti ma la cui minaccia è come si dice ma essendo due la somma della minaccia è sotto uguale a 20 perché è una carta da mulligare ecco da averne una in prima mano sempre proprio perché vi permette di di accelerare notevolmente tutta la partita chiaro non è il sovraintendente di gondor non ha lo scopo di esserlo è neutrale per cui in qualsiasi mazzo secrecy potete potete utilizzarlo e diventa però una carta assolutamente fondamentale per questa tipologia di mazzi ok io vi ringrazio spero che vi sia piaciuto continueremo con il prossimo pack e ovviamente con l'avventura dei watcher in the water e se vi piace il canale considerate di iscrivervi io vi ringrazio alla prossima un po' di